ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario mix super premium informazioni commerciali titolare gimborn italia srl concessionario gimborn italia srl confezioni mix super premium ad ultroditori 1 kg formulazione 1 kg uguale vit a 20.000 ui vit di 3.850 ui vit e 65 mg vit c 400 mg rame sotto forma di solfato rameico pentahidrato 3,5 mg sotto prodotti di origine vegetale erbette essiccate 0,2 per cento cereali verdure essiccate 10,3 per cento frutta sementi oli e grassi sostanze minerali indicazioni alimento completo per roditori gimborn super premium mix ha il mangime ideale per il vostro roditore è un alimento completo di alta qualità e bilanciato che copre il fabbisogno giornaliero ed ha stato particolarmente formulato per i piccoli roditori le vitamine e le sostanze minerali sono indispensabili per una sana e lunga vita da roditore e le sostanze nutritive ivi contenute rimangono inalterate grazie alla loro delicata preparazione posologia somministrare circa 15 50 g di alimento al giorno secondo la taglia dell'animale fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato grazie a tutti